Ciao a tutti ragazzi, io sono Alfio Zappala e oggi siamo in un nuovo video. In questo nuovo video risponderò alle vostre domande. Iniziamo! Allora ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. In questo nuovo video risponderò alle vostre domande. Se me ne volete fare, scrivetelo qui sotto nei commenti. Allora, partiamo dalla prima domanda, che è Perché non porti video? Ragazzi, non porto video perché ho anche una vita privata. E praticamente, ora che sono stato impegnato col Dress e a settembre ricomincio, non ci arrivo, perciò devo farli molto prima. La seconda domanda è invece Ciao Alfio, risponderai alle domande fatte dai tuoi follower? Sì, perché vedo che è un format che sta piacendo molto. E di questo vi ringrazio tantissimo. Bene ragazzi, con questo video è tutto. Spero che vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche e noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!